Liste complete o quasi. Il cammino di Mimmo Mele verso le elezioni amministrative del 26-27 maggio 2013 come candidato sindaco della città dell'Ansegna prosegue con l'incontro con gli iscritti alle sette liste a lui collegate di cui rimangono davvero pochissimi posti che quest'oggi hanno firmato completando il quadro che dovrà essere presentato entro il 26 aprile. Abbiamo chiuso le liste, è una partecipazione straordinaria, c'è ancora partecipazione da fare, spero che questa partecipazione si concluda nei prossimi dieci giorni. Abbiamo sette liste di Carovigno che lavora, professionisti, giovani, commercianti, artigiani, imprese, disoccupati. L'occasione è stata utile al candidato sindaco per illustrare i punti salienti del suo programma elettorale. Penso che il programma e la partecipazione dei candidati al programma sia una cosa fondamentale. Grazie a amici abbiamo fatto il giro dei professionisti, delle categorie per partecipare il più possibile a questo programma, abbiamo fatto una sintesi e credo che sia uscito un buon lavoro. Una città libera, libera mentalmente di opinione, culturalmente libera, che sia una città partecipata, che i cittadini possano dire la propria su cose buone fatte, su cose meno buone. Però una città sicuramente partecipata e libera. Non forne più finanziarie da casa di Italia, ma un contributo capace di coprire di tutela spesa prevista.